tra 10 e 35 del 26 novembre 2024 Tommaso Pina adesso mette a dimora il terreno è unico quindi va bene la palla così un po' piccata così e si fa prima ti prendo il terreno com'è a me non essi guardati ecco qua oggi è il piccone ecco il piccone e vai vino il piccone la buca profonda anche la zappa o la zappa la zappa in italiano la zappa c'è qua si chiamò devo approfondire più di là ok va bene la direzione così bene poi ci faccio così adesso non rimucio la palla andiamo un po' di foglio per proteggere il cielo di qua ok buona crescita ecco qua è un lusso allora questa la posso anche spostare quindi l'ho messa a dimora se non è stabile a vivare se l'ha sposto siccome un netto di terreno intanto ha tempo per crescere per produrre come hai un fornitore oggi la temperatura è più mese diciamoci 8 9 grati ieri era molto freddo l'ho messa